e quindi vediamo l'immagine del mondo illuminato quindi noi ci domandiamo che cosa vogliamo attraverso la comprensione quindi tramite la comprensione di questa opera che cosa vogliamo ottenere un periodo io повторi l'inzio sasdati l'uco butto fudim l'auditorio individuale la voce ne lo trasmettiamo nella seconda lente al creatore ed è come se entrassimo in una nostra aula personale per comunicare con lui vediamo guardiamo a come dio percepisce il vostro obiettivo di controllo e vediamo che la sua percezione rende tutto immediatamente eterno e vediamo che l'impulso flotante è come se si spostasse da solo dalla seconda lente nella terza e di smut poznaio un gesto e buga stondi led buco giù pomoci c'è non quando conosciamo l'azione di dio vediamo che cosa fa dio per aiutare a noi tutti stupi siti o a mcna viena были vicina живoci per fare modo che tutti i corpi siano già istantaneamente eternamente viventi eterno viventi il street e piervo un snotrim co book per e voglia informazioni ura vinguut per svitlione del mir fisico realizzata e poi guardiamo dalla terza lente nella prima cioè noi vediamo come dio trasmette il livello dell'informazione il livello informativo nella realtà fisica cioè come implementa l'informazione nel mondo fisico e poi facciamo partire questo obiettivo di controllo il nostro impulso flotante che va in senso anti orario e vediamo che all'interno di questo obiettivo di controllo anche l'intero mondo si sposta si muove secondo il nostro obiettivo di controllo e ci concentriamo sul quadro sull'immagine creata da gregorio petrovic ci concentriamo sulla luce che si manifesta in questo quadro e quindi i quadri di gregorio petrovic fanno manifestare l'eternità si chiamano proprio così le manifestazioni dell'eternità a vicino содержa in cibi e l'lupo la prosse usi e bis conicina caro roshi e l'eternità contiene già qualsiasi questione come una questione già infinitamente risolta riuscita mente bene e vicina e sostana della tavola che dove si eva l'eternità è creata proprio proprio appositamente per questo così tutte le questioni siano risolte in una maniera infinitamente positiva e l'ultimo concentriamo in questo siano e quando ci concentriamo su questo bagliore noi otteniamo l'irradiazione di materia della vita eterna questa luce di vita eterna contiene assolutamente tutto contiene per esempio la nostra comprensione dell'opera harouklus contiene anche per esempio le infinite soluzioni